buonasera buonasera a tutti dalla voce di chi non ha voce c'è una frase che risuona in ogni epoca e in ogni contesto l'avrete sentita sicuramente muoiono sempre i migliori i migliori sono sempre quelli a morire vi dò la notizia muoiono tutti i migliori e i peggiori ma la cosa che più mi fa ridere è che alle volte abbiamo un individuo di 99 anni che muore magari una persona assolutamente ammirabile geniale un esempio però senti dire muoiono sempre i migliori cavolo ma ha 99 anni non è che è morto poi così prematuramente ma a parte questo la morte non è una punizione perché questo concetto dietro al muoiono sempre i migliori sembra essere sottesa l'idea che la morte sia una punizione no la vita è un accadimento proprio come la morte la morte fa parte della vita e la morte non è una punizione altrimenti sarebbe una punizione anche la vita la vita è una punizione no perché altrimenti significherebbe affermare che esiste un punitore colui che ci vuole punire non esiste un colui la natura ci vuole punire no nemmeno chiaramente se si è coscienti la vita è complessa e quindi io l'avverto come una condanna e penso che sia razionalmente un qualcosa di oggettivo un qualcuno un essere vivente che si trova catapultato senza un perché su questo pianeta dovrà invecchiare puoi crepare sarà come se nulla fosse mai stato se non lo sa vabbè come un albero cresce invecchia e si secca l'uomo è un albero che pensa e che parla sa di esserci di invecchiare e di morire non sceglie neanche il luogo in cui nasce tanto è già determinato io vedo questa condizione come assolutamente non certo invidiabile però non è una punizione non c'è un sadico che ha voluto darci l'ebbrezza del saper di dover esserci e di dover morire senza un perché senza un fine no è semplicemente accaduto è un fatto ci è toccato quindi la vita non è una punizione di conseguenza non è punizione neanche la morte invece comunemente c'è questa concezione secondo la quale la vita è una specie di opportunità di regalo di dono il dono della vita devi anche ringraziare la natura di io i genitor scusate mi stavo totalmente emozionando per questo dono che che l'emozione non quasi non riuscivo a contenerla dovremmo ringraziare di esserci perché la vita è un dono e la morte invece è come una sfiga una condanna iattura una punizione appunto e quindi non è giusto se muore la persona bella buona geniale intelligente perché proprio lui e non quello là cattivo e maligno muoiono tutti e la morte non è una punizione anzi semmai la morte è una liberazione tutti hanno inquietudine per quanto guarda il morire ok però la morte di per sé quando c'è è una liberazione una liberazione rispetto a un qualcosa che forse non ci sarebbe mai dovuto essere la vita non dico che si debba gioire chiaramente se qualcuno muore razionalmente lo si potrebbe anche fare se si spinge fino in fondo per lui per lui perché a noi mancherà però se si vuole essere sensibili e davvero pensare a lui è nella libertà più assoluta a noi mancherà quindi inevitabile il nostro disagio specialmente se una persona cara però non è una punizione è semplicemente un fatto pensare che la morte sia una punizione un fatto ingiusto un fatto deprecabile qualcosa che non ci dovrebbe essere significa non accettare nemmeno la vita poi il dilemma è questo ma la vita è accettabile accettabile oppure no la vita è accettabile no secondo me la vita non è accettabile altrimenti non direi sarebbe meglio non esserci però non esalto la vita e ritengo inaccettabile la morte vita e morte sono quasi sinonimi quindi se voglio ritenere inaccettabile la morte perlomeno soprattutto devo ritenere inaccettabile la vita senza vita non c'è morte questo è secondo me l'approccio più corretto e lo ripeto ancora una volta affermare tutto ciò non significa quindi io ci sono sono sfortunato devo essere sempre triste no una volta che si prende atto di essere stati capodari su questo pianeta non negare questa realtà non è tutto questo dono non esistere l'inquietudio ci sarà l'angoscia esistenziale a volte arriverà però non pensare solo a quello ci sei puoi trovare una strada in armonia con persone con cui ti trovi bene che si trovano nella stessa condizione di essere viventi cercare di vivere al meglio il qui e l'ora questo lo possiamo fare è possibile trovare un equilibrio una serenità nel qui e ora soprattutto dentro di noi condividendola con gli altri con le persone con le quali magari stiamo più bene però iniziare a lavorare con noi stessi il problema qual è che la vita è quello che è e molto spesso questa è una società che determina persone ancora più infelice di quello che potrebbero essere perché c'è odio c'è cattiveria non c'è empatia a partire dalle famiglie e quindi nascono persone totalmente incapaci d'amare totalmente problematiche che quando va bene fanno male solo a se stesse quando va male fanno male a se stesse e agli altri e quindi è tutto un turbinio di uomini che si fanno male tra di loro ok già la vita è quello che è effimera mortale problematica piena di tragedie e gli uomini si danneggiano tra di loro se si sviluppassero certe qualità dell'essere i disagi le problematiche diminuirebbero e diminuirebbero anche i problemi la vita rimanerebbe questa cosa qui con questo piccolo intervallo che c'è tra la culla e la tomba sarebbe un pochettino più dolce lavoriamo su questo perché la vita non può cambiare possiamo cambiare un pochettino la società senza l'ambizione di poter avere in terra il paradiso terrestre ma noi nel nostro piccolo creare il nostro piccolo mondo a misura nostra cercando un'armonia dentro di noi in armonia con gli altri tutto qua un abbraccio condiviate commentate se vi va se ti piace il mio canale e vuoi che continui per sempre a fare video puoi sostenermi aderendo al mio patreon con donazioni a partire da un euro al mese per farlo è semplicissimo basta aprire la mia pagina patreon cliccare in alto a destra su become a patreon attendere pochi istanti e scegliere se donarmi 1, 2, 5, 10, 20 o 50 euro al mese il gruppo whatsapp degli eroi e delle eroine e altri contenuti esclusivi ti aspettano per aderire o per saperne di più trovi il link in sovraimpressione nel primo commento o nei titoli di coda per aderire o per saperne di più per aderire o per saperne di più per aderire o per saperne di più